ben tornati a tutti questo nuovo episodio di questa stupidissima serie e siamo qui oggi io alias 0045 e un altro tizio che si chiama come sei bravo nicona ok adesso parte subito perché moriremo subito e sabotatori tu parlerai tutto il tempo così io no oh grazie come fai e io ho una spada di legno ma io chi è che devo uccidere io chi è che devo uccidere io chi è che devo uccidere ma lo vuoi dire io ho ucciso un tizio ed è rimasto per terra il corpo un attimo sto cercando di uccidere un tizio con frecce ok cercherò di tenerlo a mente devo uccidere quelli gialli e come faccio a sapere qual è il mio nome non è vero non si vede il nome che mappa fighissima però dove sei no mi stanno uccidendo no si adesso si vabbè ma sei tu che cerchi di aspetta ti cerco così almeno facciamo qualcosa dai ah eccoti qui eccoti qui ora facciamo ripresa aerea ecco voi matteo alleva che oh mio dio dove sei finito ma perché sei uscito oh ma dai ma che cavolo allora rifacciamo e stavolta no il server è pieno allora esco e aspetta di entrare entra adesso fatto ok siamo di nuovo qui e stavolta ce la faremo dobbiamo farcela dobbiamo farcela direte eschi con una corona di diamante si si sicuramente comunque come ti ho spiegato prima visto che tu non capivi cos'eri ah grazie ma non è vero f5 non mi legge il nome ok allora ci sarò un messaggio all'improvviso si lo so che mi dice chi sono lo so spada di pietra spada di legno non ho ancora trovato una cazza cioè sono proprio forte eh là la cazza corri corri un'altra spada spada di pietra corri dai spada di legno ma quel paese non c'è niente ecco ti ecco ti sta fermo però sta fermo attenzione è dietro uno siamo tutti sabotatori io sono un innocente ah no io sono innocente non colpirmi non colpirmi ma sei un sabotatore ok allora devo uccidere un tizio qui muori tizio oh è giallo eccolo 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 mi sta uccidendo mi sta uccidendo ok ti aiuto ti aiuto ti aiuto ti aiuto ti aiuto l'ho ucciso sono un mito dai grande grande cosa hai guadagnato una spada un elmo grandissimo guarda che figo wow grande hai l'arco vai vai passa vai passa ah cavolo non lo sapevo c'è una mappa dai ma mi freghi tutto dammela e io ne ho due cosa vuoi che mi servano ma dove sono quelli verdi scusa ehi dove sono quelli verdi oh seriamente come faccio a sapere guarda che io ce l'ho al cappello va bene non lo vedo però mi frega cosa vuoi tu non ho capito cosa vuoi ok senti vieni qua che io conosco una strada per una casa che c'è ancora oh c'è tnt no sono morto non è possibile dai ma cos'è successo esplodo tutto aspetta che passo prendo le sue cose vai vai ok l'ho prese però sto andando a fuoco oh no ho sbagliato ho fatto rispawn e che mi ha ucciso no sono morto e rientriamo rientriamo e dove sei e rientra e non possiamo vederci così tu rientra sono dentro sono nella mappa e allora e allora non possiamo vederci perchè siamo spettatori e gli spettatori non possono vedere gli altri spettatori non devi rientrare nello stesso in un altro in un altro ovviamente ma stai ancora filmando si che sto filmando ah non sai così è un altro spettaccio ok dai muoviti entra in un altro server fai si sono dentro tu dove sei ehi complimenti entra un anno e mezzo dopo io sono in un altro server ok esi dai ma scusa ti dico rientra e tu entri nello stesso a cosa serve lo so non lo so dove sei adesso e sono dentro in uno esci e rientra mamma mia aspetta esci anche tu ok la mia tre vai uno due tre ok vai 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 ce la possiamo fare no è pieno è full che sfortuna adesso non è più full ah tu ce l'hai fatta e si vado a rientrare sul anch'io eccoti ciao ciao ti ho visto oh yeah allora ragazzi stavolta dobbiamo farcela per forza facciamo schifo ma già è vero ma no i rossi devo uccidere cosa spari non lo so io ho fatto così l'ultima volta e sono arrivato no ho vinto avevo vinto allora se sei verde sei innocente o detective se sei rosso sei ma che stai andando ho preso una cassa spada di di pietra allora iniziamo da subito ad uccidere chiunque ok se ci incontriamo magari facciamo team un arco e 32 frecce chi è che mi uccide io sono un innocente anch'io io ho un arco e delle frecce io ho tante spade hai un'armatura no le armature sono impossibili da trovare e in che senso quindi incontriamoci al centro dove eravamo oppure sai dove c'è la libreria prova la libreria se riesci aha un attimo ok no come faccio a sapere quale è la libreria e non hai una mappa no ok vabbè è tipo e cerca vedi le strade c'è scritto library e vedi un sacco di librerie un attimo ho trovato una stanza in cui nessuno aveva preso niente e ci sono 4 chest e c'è una mappa no spade di ferro grande beh ma le mappe sono sempre ma non posso usarla davvero allora trova la libreria se riesci ok se ci incontriamo io sto dentro perché non sono molto forte io invece abbastanza ho un arco un arco fa molto io sto dentro in questi scaffali cioè in mezzo ma no esci per favore vai sulle ferrovie ah ok beh dai non sono su nessun incrocio ferroviario esistente qui è morto uno ok 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 sono al cambio di binario cioè io sto lagando un sacco mi sa che tra poco muoio è impossibile e infatti vedo che le tue tacchette di connessione sono al minimo vabbè senti se stai fermo magari ti cerco io aspetta però sono uscito mi ha buttato fuori no eh già io rientro non so no vabbè finiamo questo video dai eh cavoli dobbiamo almeno provare no no scusa abbiamo fatto un po' di volte ne faremo un altro continueremo la serie per adesso salutiamo tutti quanti e gli auguriamo che questo video non sia stato inutile quindi ci vediamo al prossimo video ciao saluta anche tu ciao ciao